Che dovresti davvero prendere un aereo e raggiungermi? La bellezza dell'arte ti può colpire talmente tanto da non poterne più fare meno. I nostri occhi sanno riconoscere il bello indifferentemente dall'epoca che viviamo. Il bello è senza tempo. E se per caso un giorno l'arte dovesse mancarti, prova a chiudere gli occhi e poi riaprile. La bellezza dell'arte ti può colpire talmente tanto da non poterne più fare meno. La bellezza dell'arte ti può colpire talmente tanto da non poterne più fare meno. La bellezza dell'arte ti può colpire talmente tanto da non poterne più fare meno. Grazie.